In questo nuovo video andremo a vedere in retrospettivo due trade che ho inserito nel mio diario, uno è lo short sull'oro, un altro trade invece è un long sul DAX che ho aperto e chiuso già questa mattina, in realtà poco fa, e che ho chiuso a costo operativo. Quindi per farlo partiremo sempre dal mio diario di trading e andremo a vedere proprio che cosa ho inserito nel diario. Se non mi conosci io sono Daviano Zito, Price Action Trader indipendente, sono un membro collaboratore di questa community, quella che stai vedendo è Professioni Trader, una rubrica dove settimanalmente faccio vedere le operazioni di trading su un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di Accademia che ho intrapreso all'interno di IR Forex. Prendo quindi il diario di trading, lo andiamo a vedere, eccolo qui, il diario di trading sul quale possiamo vedere le mie due nuove operazioni, una è lo short sul gold, quindi il mercato dell'oro che ho venduto come dal video precedente, ma che adesso andiamo a vedere cosa ho fatto, che ho chiuso poi con un costo minore, e poi un long sul DAX di questa mattina che chiudo con un po' di ramarico sinceramente e che adesso andiamo a vedere un po' in retrospettiva cosa diceva e perché e come mai l'ho chiuso. Allora, per quanto riguarda il mercato dell'oro, ho chiuso, ho aperto, avevo aperto questo trade a fine maggio, quindi il 30 maggio l'ho chiuso dopo qualche giorno di trading, dopo la congestione, lo chiudo con un costo operativo di circa 65 euro, quindi interessi attivi, mentre ho appena chiuso il DAX con un costo di 83 euro dopo il mio ingresso, perché il mercato si è mosso rapidamente al ribasso andando a fallire un po' quello che era il mio trade. Se andiamo a vedere un po' quello che ho fatto, eccolo qui, quindi sul loro avevo fatto un ingresso attendendo quella che era la dinamica mattutina, ma per questo c'è il video scorso, poi per quanto riguarda poi la chiusura, ho chiuso questo trade su la fuoriuscita di quello che è stato il range di consolidamento nel breve periodo sul mercato, appoggiandomi un po' a quella che era stata la correlazione di mercato con l'argento, anche se, insomma, possiamo andare a vedere, poi c'è stata tutt'altra price action. Invece poco fa ho chiuso questo DAX. Andiamo con ordine, quindi partiamo dal loro mercato che, appunto, avevo shortato dopo questa dinamica che veniva sempre da una... Allora, ci troviamo sempre su un settimanale che sicuramente era un settimanale long, ma un mercato che aveva fatto una falsa rottura, quindi su questo livello 2450, aveva fatto questa falsa rottura, quindi aveva chiuso una settimana pesante, quindi falsa rottura e candela bearish outside bar, il mercato aveva fatto un ritracciamento molto lieve, quindi queste tre giornate, e questa dinamica, diciamo, bearish, dinamica FTV power, tipo FTV power, quindi, diciamo, venduto la mattina seguente, nel momento in cui ho visto che il prezzo comunque congestionava, rimaneva stabile sotto determinati livelli. Quindi, venduto, il mercato viene giù, poi successivamente cosa succede? Che nella mattina del 3 giugno c'è stato un forte recupero al rialzo, dopo un'ulteriore convalida di questo, che è stato un altro trigger short FTV classic, il giorno successivo, che poi in realtà è l'inizio della settimana successiva, il 3 giugno, il mercato va al rialzo, crea poi il giorno seguente un inside, che sembrava, alla rottura di questo minimo, poter dare poi subito questo boost ribassista, che non c'è stato, e quindi il mercoledì 5 giugno, invece, va a rompere al rialzo questa situazione di outside bar, quindi questa con, eccolo qui, questo pattern, quindi chiusura rialzista, è nella giornata del 6, ho seguito molto da vicino, quindi durante la mattinata, quello che stava avvenendo, ed effettivamente andiamo a vedere, quindi, il mercato, poi che cosa fa? La mattina, questa è la sessione notturna, crea questo rialzo, quindi inside tra le 7 e le 13, e poi successivamente, tra le 13 e le 17, è andato, insomma, a ritestare, ritestare questa zona, e quindi andare al rialzo. Quindi ho chiuso intorno alle 17, dopo le 17, guardando un po' anche quello che era, diciamo, quella che era la dinamica 4 ore, andiamo qui, ho atteso un po' che venisse convalidato, praticamente, il massimo della sessione europea, e ho chiuso quando ho capito che ormai il mercato, almeno per la giornata, non aveva più al ribasso. L'idea era che si potesse creare una tail bar, cioè che venisse giù sotto questo livello, e in realtà, poi, cosa succede? Che il venerdì 7 giugno, in mattinata, quindi dopo la sessione notturna, quindi già dal massimo delle 7, in mattinata aveva creato questo forte ribasso, che, quindi, diciamo, una chiusura già alle 13, indicava una falsa rottura, e quindi un rientro nella vecchia struttura range, che era, diciamo, tutta questa congestione qui, che effettivamente è stata, diciamo, breccata e feicata, quindi, diciamo, c'è stato, diciamo, questo rientro. Il mercato poi rompe addirittura ancora questo minimo, e va completamente giù, andando fino al primo livello di target, che era nei 2002 e 90, dove, eventualmente, in chiusura di settimana, avrei potuto anche prendere profitto. Questa è, a tutti gli effetti, una falsa rottura, e chiaramente col senno di poi si può valutare e capire che cosa, diciamo, cosa ha comportato la mia decisione. Sicuramente un costo operativo, io avevo uno stop ampio sopra i massimi settimanali, nel momento in cui c'era stata questa chiusura al rialzo, con già un minimo che aveva testato questo, questa zona di massimo della congestione, sinceramente, mi aspettavo una costruzione verso il 2004, almeno, e quindi ho preferito tagliare il costo operativo. Avendo lo stop, quindi, in alto, avrei, così ragiono, così ad alta voce, avrei potuto abbassarlo, magari, verso proprio il 2004, però il 2004, sinceramente, mi sembravano un livello piuttosto raggiungibile, facilmente raggiungibile da parte del mercato nel giro di un giorno. E così non è stato, in realtà, lui fa una falsa rottura, probabilmente, di una quindicina di dollari, vediamo un po', quindi, vediamo per bene questo, a quanto corrisponde, no, stiamo parlando di 10, 10 dollari di oro, quindi, col senno tipo, insomma, chiaramente, un abbassamento dello stop, una gestione attiva dello stop, per, così, contenere comunque il costo operativo, probabilmente mi avrebbe fatto rimanere al mercato. Però, chiaramente, questa è una considerazione che facciamo in un momento successivo, perché questa candela al rialzo poteva benissimo avvenire anche, al ribasso poteva avvenire anche al rialzo, e quindi, trovarmela, praticamente, verso 2400, 2420, o anche più in alto, molto, molto facilmente, anche perché eravamo sempre nel trend, nel trend long. Quindi, nel momento in cui siamo già fuoriusciti dalla, dalla congestione, sì, mi posso aspettare la falsa rottura, però, decido di tagliare il costo operativo, e, pazienza, adesso, sarà da valutare, se dopo questa, questa volatilità, ci saranno le condizioni per, fare, eventualmente, un ulteriore ingresso, anche perché, per quanto mi riguarda il piano, adesso rimane short, la chiusura settimanale, è completamente, eh, bearish, quindi, dopo falsa rottura, outside bar, qui c'è stato un consolidamento, questa è una, tail bar, doppio massimo lower closing, molto, molto interessante, e quindi, si può, si può pensare di, eh, andare, poi, comunque, a, a shortare su, su una conferma, nelle, nelle prossime giornate, se, eh, dovesse, dovesse verificarsi, anche perché, adesso, qui eravamo su, eh, la prima, eh, la prima zona di arrivo, comunque, l'ultima zona di acquisto, dell'ultima fase, fase long, quindi, questa, questa è la situazione su, su loro, se andiamo a vedere, invece, la situazione, del, del, del DAX, vediamo un po', dove ho lasciato, quindi, il, il, il mio, diario di trading, eccolo qui, situazione sul, sul DAX, che, ho tradato, praticamente, questa mattina, in realtà, era un trade, volevo già, eh, impostare ieri, nel, nel pomeriggio, però, insomma, ho lasciato, che il mercato sfogasse, nel senso, andasse a creare, poi, la, la close, eh, daily, che c'è stata, quindi, stamattina, verso, tra le otto, le otto e un quarto, ho inserito, diciamo, riguardato un po', la, la situazione, e ho inserito questo, questo ordine. Cosa mi piaceva molto, mi piaceva molto, proprio la falsa rottura, che si era venuta a creare, su, su questo mercato, e quindi, la possibilità, di, eh, aver, diciamo, aver creato da parte del mercato, un minimo, un minimo importante, questa cosa qui, eh, me la sottolineo, perché potrebbe essere stato, diciamo, un, eh, come dire, un motivo di, eh, come dire, di, che, che mi ha spinto, no, a fare, a fare questo trade, eh, con, diciamo, con più, con più voglia. Ehm, anche perché, diciamo, chiaramente si è, diciamo, si è concluso questo trade, in maniera molto rapida, rispetto, rispetto al solito, era un trade sul, sul quale, sicuramente, ci credevo, mi piaceva la falsa rottura, però, chiaramente, arrivano, no, arriva, arrivano anche questi, questi momenti, vanno, vanno compresi, capiti e gestiti. Però, è un trade che ho fatto, con un, con un rischio minore, se andiamo a vedere, che non vuol dire che, bisogna per forza andare a costo operativo, comunque, centocinquanta euro, rispetto a duecentocinquanta, perché qui avevo fatto, un ragionamento, eh, diverso, sul, sulla struttura di mercato, proprio, eh, perché stavamo parlando di un, eh, di un settimanale che ancora, allora, facciamo così, riprendo il settimanale, eh, stavamo, e stiamo, ancora, per quanto mi riguarda, in una fase di pullback, dell'ultimo movimento long, che c'è stato sul, sul mercato, l'idea era che il mercato, potesse aver fatto il minimo, di cui aveva bisogno, per avere una ripartenza long. Quindi, eh, ho impostato, questa mattina, uno stop, che era, sostanzialmente, a 18.003, e quindi, diciamo, era circa il 20% della volatilità, di, di questa barra, e quindi, eh, con, con un, con un costo minore. Che cosa succede? Quindi, io avevo, eh, lo stop, eh, su, su questo livello, sono entrato a 15.530, circa, comunque sopra, eh, più o meno su, eccolo qui, sono entrato su, su questo massimo, circa con un buy limit. Buy limit è stato eseguito, eh, poco prima della, eh, dell'apertura della borsa, europea, quindi 20.45, visto. Eh, cosa succede? Succede che il mercato, nel, nella mattinata, eh, dovevo registrare il video, quindi, verso, verso le, le dotici, già guarda il video, quindi ci trovavamo, praticamente, più o meno ai livelli attuali, quindi, io mi ritrovavo, proprio, con, con questo, con questo movimento, movimento che, rispetto a, quello che era stato, poi il, la Pimba, restava già, eh, praticamente ben al di sotto del, della zona di, di pullback, stavamo sotto queste, queste aperture, queste chiusure, sotto, sotto questo minimo, insomma, non, non, non mi piaceva, non mi piaceva la situazione, quindi, ho, ho chiuso, ho chiuso proprio perché, insomma, l'idea che adesso, anche se qui può, può, diciamo, ritracciare, poteva anche ritracciare da qui, e poi, diciamo, andare a, a rompere questo minimo, andare a prendere poi lo stop, quindi ho deciso, ho deciso di concludere il trade in anticipo, eh, dovendo prendere una decisione in maniera più, più rapida, rispetto, rispetto alle altre, alle altre volte. Quindi, allora, questo, questo è il sei ore, mh, sono, adesso sono le 12 e 38, sicuramente questa, questa close da qui ai prossimi 20 minuti, non sarà molto diversa, quasi, molto probabilmente, quindi per il DAX, eh, non si prospetta, almeno al momento, un, un movimento, un movimento long di, di breve, come, come era, diciamo, il mio progetto, una volta che c'era stata questa, questa falsa rottura, di, quindi, di, di questo minimo, qui c'è stata una lieve falsa rottura nella giornata di ieri, il mercato che cosa fa? Va a colmare questo, questo gap che si era venuto a creare ieri e viene giù. Quindi, diciamo, rottura al ribasso, chiusura del gap, di nuovo un movimento ribassista, che, insomma, non è, non è stato il massimo. Tra l'altro, eh, chiusura, chiusura del gap, che stava ancora al di sotto di, eh, questa chiusura settimanale, quindi, quindi, 18.534, che, insomma, appunto, ecco, corrispondono con, eh, la close di, appunto, di, di venerdì. il fatto che dopo aver chiuso questo gap, è andato veramente con, con molta rapidità al, al ribasso, non è, non è stato un buon, un buon segno per, per questo trade, quindi, insomma, chiudo, chiudo con la, diciamo, con la, con il costo operativo, poi vediamo, vediamo se, questa è stata, diciamo, un'ulteriore falsa rottura, e domani mattina, magari, ce lo ritroviamo a 18.550, sarà tutta un'altra storia, e poi, magari, ne, ne riparleremo nel, nel prossimo video. Quindi, situazione adesso su, diciamo, sul, sul mediario con questi due costi operativi, quindi, il, il gold, rivediamolo, a volte che, in qualche modo, mi ha fatto un fake, e, vabbè, pazienza, e, siamo, siamo qui proprio per condividere l'operatività, e valutare quelli che sono i rischi, e, e anche le situazioni che si vengono, che si vengono a creare, nell'attività di, di trading, e poi il DAX, operazione che si apre e si chiude, praticamente, nel giro di, mh, quattro ore in questo caso, scarse, quindi, tra le otto, e, mh, e le dodici, due, due costi operativi, e li mettiamo, li metto in conto, nel, nella mia operatività, e, per il momento, insomma, questa, questo è l'aggiornamento di, di questa settimana. Io, come al solito, ti ringrazio se, e vi ringrazio se avete visto il, video fino, fino a questo punto, vi invito a lasciare dei commenti, in fondo, a questo video, mi rendo conto che non sono, dei video, in questo caso, che mostrano profitti, o strategie di ingresso, sbalorditive, mostrano in questo caso, dei costi operativi, ma mostrano quella che è, la, la realtà di, di trading, di un trader, come me, che, insomma, condivide, condivide qualcosa con voi. Questo, spero, insomma, spero, insomma, venga, venga apprezzato, quindi se vi è piaciuto comunque il video, vi invito a lasciare un mi piace, a continuare a guardare i video di questa rubrica, di questo canale, iscrivervi se non l'avete fatto. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buon trading, alla prossima, ciao.